Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovato nel mio canale. In questo video sentirete sicuramente un casino disumano, anche perché, prima di tutto, voglio vedere se riesco ad acquistare un altro tipo di microfono, perché questo capta tutti i suoni, anche se vedi che sono giù in strada. E poi ho la Foton qui accanto a me, accesa, che sta facendo delle stampe e stiamo stampando, tra l'altro, degli uomini bestia per HeroQuest, per inserire i due nuovi mostri, avevamo voglia di metterci qualche miniatura in più, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Anche oggi parleremo e vi daremo dei consigli, appunto, sulle stampanti 3D e tutto quello che noi abbiamo immagazzinato, appunto, facendo esperienza con i prodotti dell'Anycubic. Partiamo descrivendovi un pochino la macchina, appunto la Foton dell'Anycubic. Il piatto della stampante è in alluminio ed è di dimensioni 12x6 di larghezza x 15 d'altezza. È stato fatto in alluminio, così come anche il serbatoio della macchina, perché garantisce una miglior presa, appunto, delle miniature attaccate sul piano di lavoro. Scusatemi, ragazzi, che non vi posso far avvicinare più di tanto, appunto, perché ve l'ho detto, è in lavorazione, se no già si sente un casino, immaginatevi un po' dopo. Comunque, già lo stesso piatto, dove ovviamente scendi giù nella bacinella, nel piatto di lavoro e tira fuori la figura imprimendo con i raggi ultravioletti, vedete, è fatto tipo a forma di cappa. Non è fatto piano, perché in altre stampanti è fatto piano e quando poi vi si farà vedere, quando poi andate a versare la resina, la resina si va a depositare soprattutto sopra. Quindi, facendo così, collerà tutto insieme. Su questo qui non ci rimane, perché essendo fatta, appunto, a tetto spiavente a cappettina, come voi, staccate la stampa e togliete appena appena girate il piatto sopra, non ci sarà niente. Quindi si rischia anche meno di fare un danno, appunto, con la resina in eccesso. Vi ricordate, nel primo video, andate a vedere nel canale, che abbiamo fatto un cosa ne penso dell'Anycubic Photon e anche, tra l'altro, della Wash & Cure. Se vi ricordate, vi abbiamo fatto vedere qualche accendo di tutorial su come calibrare la macchina. Non c'è soltanto quel metodo di calibrazione che vi abbiamo fatto vedere, ma c'è anche un altro metodo chiamato metodo flint. È molto più accurato, è molto più preciso, senza starvene a parlare in questo video, vi lascio un link in descrizione. Quindi scendete nella descrizione sotto il video e trovate il video di riferimento, appunto, a questo metodo flint. Molti hanno avuto anche dei problemi a sostituire il FEP, che è quel film protettivo che sta sotto al serbatoio della macchina. C'è un metodo per sostituirlo. Tra l'altro, la stessa Anycubic ha fatto un videotutorial molto esaustivo, tra l'altro, è fatto veramente bene, che vi fa, appunto, vedere andare a sostituire il FEP che rimane sotto al serbatoio. E è un passaggio molto importante, perché il FEP, come tutte le cose, magari come anche l'LCD, si andranno a rovinare e dovranno essere sostituite. E quando voi andrete a sostituirlo, dovrete fare delle operazioni. Comunque, vi lascio ancora un altro link in descrizione, insieme al metodo flint, per vedere, appunto, una videoguida. Tra l'altro, mi voglio rendere conto del casino che fa nel video, mi ci avvicino un po'. Che poi il bello, come macchina, è silenziosa, però ovviamente, guardate quanto ci sono io di distanza, 40-50 centimetri. Comunque no, devo dire la verità, già entro 3-4 metri non è nemmeno fastidiosa, lavorano molto bene le ventole, non fa rumore, ragazzi. Oltre al FEP, bisogna stare anche molto attenti all'LCD sotto. Molti consigliano addirittura di prenderne subito uno di ricambio, cosa che non fa mai male, perché è meglio abbondare che difficile, e quindi è meglio avere sempre roba in più. Non si sa mai, come gli stessi FEP. Tra l'altro, quando vi arriva la macchina, già vi mandano loro un po' di FEP. Comunque voi, per sicurezza, se trovate una buona offerta su Amazon, periodo sconti, Black Friday, cose del genere, uno schermettino LCD o comunque di FEP, acquistatele, comunque anche questi ve li mettiamo, link in descrizione. A fine di ogni stampa, vada da smitare una cosa, qualcuno dice sempre di ricalibrare la macchina. Se la macchina è calibrata bene, l'avete calibrata proprio attentamente, seguendo una videoguida, non la calibrate più, più, per almeno, insomma, le prossime 10, 15, 20 stampe. Di solito ogni 10 stampe sarebbe meglio rifare un attimo, tanto ci perdi 10 minuti, un quarto d'ora, non di più. Però la pulizia del serbatoio, quella è importantissima, perché, come vi ho detto in un video precedente, il serbatoio sporco vi rovina la stampa, perché magari ci rimangono macchie, magari ci rimangono anche pezzi di resina solidificata, che si è staccata dal piano di lavoro, ed è caduta giù e quindi rimane attaccata. E quindi vi va a rovinare completamente qualsiasi tipo di stampa che farete dopo. Quindi, pulizia e manutenzione, ragazzi, prima di tutto, il tavolo da lavoro, la vaschetta da lavoro, deve essere linda come quando vi è arrivata a casa. Prima di iniziare una nuova stampa. Quindi, a livello di pulizia, perdeteci un po' di tempo. Cioè, ora no, un'ora. Però magari un quarto d'ora perdeteci la pulirla per bene. Veramente. Un altro consiglio spensierato che vi do, ho visto tanti che usano i filtri dell'Anycubic per rimettere la resina dal piatto di lavoro, dal serbatoio, dentro appunto il flaconcino. Ci mettono questo filtro e la versano. Noi saremo anche profani, quello che vi pare a voi, tutto quanto. Magari un metodo anche non prettamente professionale. Però, mia moglie la prende con una seringa e ce la rispruzza dentro. Ci mettete un po' di più, perché, oh, non vorrete mica avversarcelo così o prenderlo con la seringa. Però dentro non ce n'è nemmeno 8 litri che per prendere tutte e la seringa ti ci vuole 3 giorni. C'è poca roba, si parla di millilitri. Quindi, alla fin fine, ci potrebbero essere 100, 150, 200 ml. Anche perché di più nel piano di lavoro non ci stanno. Prendetelo con la seringa e lo ributtate nel flacone. Così, non solo non fate casino a giro, ma non perdete manco una goccia. Per pulire il serbatoio conviene usare l'alcol isopropilico, l'alcol denaturato o, se no, anche volendo l'acetone se ci avete qualcosa in casa. Però, tutti e tre questi prodotti potrebbero, ripeto sempre, potrebbero dare il problema di opacizzare appunto il FEP. Quindi, in caso, cosa fare? Prendete un po' di vetril, quello per lavare i vetri in casa, una pezza di quelle, un pannetto di quelli che si usano anche per gli occhiali, per non rigare il vetro, e andate a fare una bella pulizia. Nel caso, se lo vedete opaco, lo pulite come fosse un vetro di casa. Stessa, identica cosa. Deve essere pulito e lindo, ragazzi. Quindi, quando lo prendete, magari controllatelo anche alla luce, che non abbia alone e macchie, perché quella macchia lì vi blocca completamente la stampa. Tra l'altro, il FEP, quando l'andate a sostituire, che ci sono delle vite da staccare e da rimettere, non andate a stringerlo troppo. Deve fare un pochino effetto tamburello quando ci battete sopra. Quindi, non deve essere completamente stretto, che non si muove assolutamente, deve fare un pochino l'effetto tamburello sopra. Perché se è troppo attaccato, ancora una volta, vi può rovinare oppretamente la stampa, ma anche quando si muove il piano di lavoro e tutto quanto, ve lo può strappare direttamente. Quindi, occhio, non deve essere tirato all'estremo, leggermente meno. Un pochino di gioco ci deve essere. Ah, quando cambiate il FEP, togliete da sopra la pellicola di protezione, perché c'è tanta gente che ho visto ce l'ha lasciata, eh. Mi raccomando, usare la stampante non è per tutti, non è un giocattolo, ma soprattutto è tossica. anche perché, ragazzi, quello che sto facendo io, come video, di farvelo vedere, la stampante è chiusa, tutto quanto, c'ha il vetro tirato giù, quindi i problemi non ce ne sono, vedete, è chiusa ermeticamente, quindi non c'è problema. Però, se ci devi stare a questa distanza, sarebbe sempre meglio, per sicurezza, e la macchina è già ora in sicurezza, ma sarebbe meglio sempre avere, perlomeno, una mascherina. Quindi, comunque, guanti, quando toccate la resina, non nel mio caso, ora che ci faccio un video, ma anche mascherina, quando avvicinate, e mascherina, sta facendo? Ok, sta venendo bene, mascherina, metti lì e te ne vai via. Comunque, la sicurezza, sempre per prima cosa. Poi, ovvio, dipende anche se la resina fa tanti fumi, noi stiamo usando un tipo di resina, appunto, dell'any cubic, quella bianca, tipo ABS, che non fa comunque molta, puzza, proprio effettivamente per niente, c'è accanto, e non fa nemmeno tanti fumi, comunque, la sicurezza non è mai troppa. La resina, se inalata, vi può dare delle infiammazioni polmonari, e se vi arriva a contatto con la pelle, vi potrebbe dare delle reazioni cutanee, quindi non è un bicchier d'acqua che vi casca addosso, attenzione ragazzi. Ora, ci spostiamo su un altro argomento, e andiamo a parlare di progettazione. Già nell'altro video, in quello precedente, vi abbiamo fatto vedere un po' di roba, perché vi abbiamo parlato della cosa, della progettazione alla fin fine più importante, o che perlomeno vi va a precludere una buona stampa, o il fallimento di tante, ve lo va a assicurare, che sono i supporti. I supporti sono la parte, secondo me l'80% di una stampa, ma non c'è soltanto il supporto. Purtroppo, si parla ovviamente dell'orientamento della figura. Qui prendendo la spatolina, quella che ci hanno dato le Anycubic, se voi dovete fare una figura, un action figure, vi faccio l'esempio, se vi sono tante figure, tipo un busto di un personaggio, che vi piace, una cosa del genere, la dovete mettere ritta, cercate, lo faccio vedere così di taglio, la dovete mettere ritta in piedi, sul tavolo di lavoro, cercate sempre di piegarla a 45 gradi, anche perché è più facile mettere i supporti e la sorreggono anche meglio, perché volete mettere un supporto rito, che poi va così in diagonale, e si collega per tenere la struttura ferma, o volete metterla così, che il supporto invece va dritto, a toccare nel punto dove deve tenere fermo, senza fare nessuna piega. E poi, ovviamente ci sono anche i tipi di figure, dove il supporto lo fa la stessa figura, perché questa figura qui, che vedete è sottile, e c'ha una base piana, questa qui appoggerebbe tutta sul piatto, quindi una figura del genere, per stamparla, non vi serve nemmeno un supporto, perché l'appoggiate così sul piatto, ovvio se ci sta in lunghezza, l'appoggiate così, non ha bisogno di supporti, almeno che non formi isole, ma non ce ne sono, perché va a fare da supporto, direttamente il piatto, la superficie piana dove va a toccare, ma se questa figura, vorreste farne 5, tutte nello stesso piano di lavoro, e quindi così un cistando, le dovete mettere ritte, dovrete iniziare a fare un po' di supporti. Un programma tipo Prusa Slicer, vi può venire anche in aiuto, con l'autoorientamento, e anche lui, quando farete l'autoorientamento, di solito ve la mette, come vi ho fatto vedere prima, sui 45, comunque un'angolazione sempre del genere, però non basta, perché anche noi si pensava inizialmente, vado di C2Box, o KituBox, se lo chiamo C2Box, con l'auto supporto, e l'auto regolazione, Prusa Slicer, però tanto, non andranno mai, a prendervi tutte quante le isole, qui apro una piccola parentesi, che non vuole essere una critica, però, arrivati nel 2020, ragazzi, con roba che fino a 5 anni fa, erano dei sogni, esistevano già anche 10 anni fa, le stampanti in 3D, però, non a uso domestico, quindi, era tutta quanta roba di magazzini, era tutta quanta roba di fabbriche, siamo nel futuro, perché, ragazzi, siamo nel cyberpunk, ti piglia la voglia di stamparti qualcosa, come faccio, dove lo trovo, te la pigli e te la stampi, però, ci vorrebbero dei programmi, un pochino più all'avanguardia, e secondo me, piano piano ci si arriva, anche nel giro di un anno o due, dove questa figura, ha tot isole, e necessita tipo di tot supporti, te le deve mettere in automatico, tutto il programma, no che, magari, questa figura qui, me le mette tutti, però qui manca, e quindi questo pezzo non mi viene, e questa parte qui salta, me le dovrebbe mettere tutti, quindi, per quanto voi la indiriziate, la angoleate, voi dovete lavorare al meglio, per dare la possibilità alla macchina, di essere esaustiva, appunto, al 100% di tirarvi fuori la miniatura, che le avete messo nel progetto in memoria, perché voi, magari avete messo supporti perfetti, perfetti, l'avete angolata nella giusta maniera, potrebbero venire fuori tanti problemi, perché magari avete fatto un lavoro frettoloso, oppure perché semplicemente avete fatto il classico errore, di far muovere il piatto troppo velocemente, perché più fate muovere lento il piatto, più è difficile che si stacchi la figura dal piatto, però più tempo ci mette, perché una stampa di due ore, magari che vi perde qualche dettaglio, o perde proprio la figura che si stacca, e cade dentro la bacinella al serbatoio, voi immaginatevi di farla due o tre volte più lenta, e per fare la stessa figura di due ore ce ne mettete sei, però siete sicuri che venga fuori, quindi ci sono tanti settaggi da fare, tanti tanti, che sono totalmente differenti da una figura all'altra, non vi aspettate mai stampare questa spatolina, e stampare questa seringa, che tra l'altro è quella che usiamo per fare i travasi, immaginatevi questi due qui, di doverle andare a stampare, e non le potete assolutamente stampare mai, con gli stessi settaggi, non potete, questo ha un settaggio e questo un'altra, tra l'altro, nelle stampe che abbiamo fatto recentemente ragazzi, piccolina, per l'amor di Dio, perché è piccolo il piatto di lavoro, la targhettina della Wayland Yutani, costruiamo mondi migliori, per l'amor di Dio,